15 anni di reclusione per Paolo Pietro Paolo, questa la richiesta della procura di Napoli. L'uomo è responsabile del tentato omicidio della sua ex convivente Carla Cagliazzo, bruciata viva lo scorso marzo. A porte chiuse questa mattina l'udienza sono stati i PM Raffaello Falcone e Clelia Mancuso a chiedere la condanna sulla scorta di un ragionamento. Quel giorno del primo marzo c'è stata una trappola, quindi c'è stata premeditazione. In aula Pietro Paolo non ha battuto ciglio e parso abbastanza tranquillo, così come ha sostenuto il suo avvocato Gennaro Razzino. L'imputato visto sereno aspetta con grande calma, tranquillità e fiducia nel magistrato la sua decisione. Soddisfatto per la richiesta da parte della procura invece è l'avvocato Maurizio Zuccaro, legale della parte lesa. Ai nostri microfoni lo stesso ha poi precisato. La procura è stata molto lineare, la dottoressa Mancuso ha fatto un'ottima requisitoria come sempre. Ha rappresentato quelle che erano le circostanze aggravanti del fatto, quindi sia i motivi abbietti e futili, sia la crudeltà nell'aver utilizzato il mezzo, quello incendiario, ma soprattutto della premeditazione. Noi non dimentichiamo che l'agguato che Pietro Paolo ha poi realizzato ai danni di Carla Caiazzo è soltanto l'epilogo di una serie di atti persecutori possi in essere dall'imputato. Non più tardi di qualche giorno prima è stata violentamente aggredita in auto, le è dovuta scappare via, rifugiarsi dai carabinieri, quindi la premeditazione sotto il profilo dell'individuazione dell'aggravante c'è tutta. Grazie.